Che succede? Niente. Dai, come niente, Giulia? Lascia stare. Mi dici che c'hai? Oh, cucciola, dimmi che è successo. Ma che due coglioni che sei, Ottavio? Basta con queste smarcerie, ok? Mamma mia. Ma che ti prende, Giulia? Che ti prende? Che ti prende? Senti, quando stavamo insieme io non ti ho mai visto prendere mezza decisione. Eh? Vivere insieme no, è troppo. Fare dei figli non parliamone. Adesso ti stai sposando con Alessandra? Godi, te la fa la felice, cosa vuoi da me? Guarda che ti ricordo che sei tu che mi ha lasciato per Raph, per l'artista, quello che sapeva leggerti dentro, la ventata di novità, quello profondo. Beh, però non mi sembra che sei proprio riferita, Giulia. Bene, sono contenta di vedere che anche tu cominci a dire quello che pensi. Ti ho lasciato perché eri una meba. Una meba senza palle. Beh, vedo che prende poli per i parassiti. Almeno io non mi facevo mantenere. Grazie. Grazie. Grazie.